Fuggono all'alte della polizia e vengono arrestati dopo un rocambolesco inseguimento tra le strade di Porto Empedocle. Due ventisettenni sono finiti in manette per resistenza pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi. Si tratta di Gino Mendola, Empedoclino, e Andrea Castellino, originario di Cattolica Eraclea. Nel corso di una operazione di controllo del territorio, gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento hanno cercato di fermare un'auto guidata dall'Empedoclino che, visto l'alte della polizia, ha proseguito la sua corsa dandosi alla fuga verso il centro abitato. Così è scattato l'inseguimento, durante il quale gli agenti hanno visto lanciare dall'abitacolo un fucile a canne mozze poi recuperato e posto sotto sequestro. Una volta bloccato il mezzo, i due hanno proseguito la fuga a piedi correndo verso la spiaggia. Il primo ad essere bloccato è stato Castellino, che nel frattempo si era liberato di sei cartucce calibro 16 da caccia, poi recuperate. Subito dopo gli agenti hanno fermato anche Mendola, che si era nascosto dietro agli scogli a ridosso del muro di cinta della vicina centrale dell'Enel. Durante la successiva perquisizione domiciliare a casa di Castellino, a Cattolica Eraclea, i poliziotti hanno trovato nascoste altre 16 cartucce calibro 16, una pistola a salve calibro 8 mm, priva di tappo rosso e un macete. Entrambi gli arrestati, inoltre, avevano violato l'obbligo di dimora nel comune di Cattolica Eraclea, a misura cautelare a cui erano sottoposti per un altro procedimento penale. A Castellino, invece, è stata contestata anche la violazione della sorveglianza speciale. Espletate le formalità, gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere Petrusa di Agrigento.